Marsilio sfida Roma. Così come aveva anticipato l'ingresso in zona rossa di appena 48 ore, il governatore dell'Abruzzo impone la zona arancione 48 ore prima che lo faccia il Ministero della Salute. L'ordinanza regionale è stata firmata e pubblicata. Da oggi riaprono negozi, gli unici a riaprire, con l'obiettivo di salvaguardare i consumi del Ponte dell'Immacolata e mercoledì riapriranno anche le scuole. Nel giro di pochi minuti, però, Roma si è dissociata dalla decisione che Marsilio ha preso in autonomia. La scadenza dei 21 giorni è prevista per mercoledì, non per lunedì, ricordano alcune fonti di governo, quindi non c'è avallo su questa ulteriore anticipazione. Insomma, Marsilio, che si è rifiutato di commentare la nota aggiunta dalla Capitale, ha fatto tutto da solo, ben consapevole del fatto che le regioni possono imporre misure restrittive più severe di quelle decise dal governo nazionale, ma non viceversa. Quindi, stando ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordinanza di Marsilio è carta straccia, ma comunque è ora legge in Abruzzo. Il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ieri sera ha voluto mettere subito le cose in chiaro, in diretta dalla D'Urso. Se l'Abruzzo tornasse in zona arancione da mercoledì avrebbe l'intesa del Ministero della Salute, se l'Abruzzo decide autonomamente di andare in zona arancione da domani mattina sarà diffidata perché diventa inevitabile tutelare sul piano sanitario tutti gli abruzzesi così come tutti gli italiani. Poco importa che la diffida sia solo una ramanzina, questo è un vero e proprio strappo istituzionale tra lo Stato e la Regione e in mezzo ci sono gli abruzzesi. I commercianti, così come i dirigenti scolastici, sono confusi, non sanno a quale autorità dare ascolto incastrati in una tragica contraddizione. Un po' come nell'Antigone di Sofocle, dove la protagonista è vittima del conflitto tra la legge degli uomini e quella degli dei. Alla fine Antigone si uccide e rimane il dubbio che l'Abruzzo stia commettendo un suicidio istituzionale, volendo andare controcorrente. Marsilio, firmando l'ordinanza, si è ribellato a quei 21 parametri che erano stati approvati dalla Conferenza delle Regioni, in base ai quali l'Abruzzo divenne zona rossa a causa della pressione sulla rete ospedaliera. E si assume così la responsabilità dei contagi del ponte dell'8 dicembre. Sul web gli abruzzesi si dividono. C'è chi, esasperato dalla zona rossa, ringrazia Marsilio. E chi ha il timore che l'uomo della Meloni stia combattendo una battaglia tutta politica e poco scientifica sulla pelle degli abruzzesi. Intanto un obiettivo è stato raggiunto. Oggi l'Abruzzo è sulle prime pagine di tutti i maggiori quotidiani italiani, su cui è raccontata la storia di quanto appena 48 ore possano fare la differenza.